Ci siamo, no, domenica qualcuno mi ha detto ma adesso arriva la Gianna, arrivano queste qua come fossero partite semplici. Siamo noi la squadra semplice, quindi voglio dire noi se non mettiamo dentro lo spirito agonistico e le cose che abbiamo messo in queste ultime partite noi non abbiamo incontri facili da fare, non ce l'avremo mai. Quindi noi siamo una squadra sempre che deve mettere in campo tutte quelle cose lì, tra l'altro io l'ho vista nel partito della Gianna e la classifica che ha è decisamente bugiarda, quindi è una squadra di tutto rispetto, una squadra che già da diversi anni fa questa categoria con ottimi risultati. Quindi quest'anno per la prima volta hanno deciso di cambiare la guida tecnica, hanno tenuto un allenatore che era lì, che già collaborava da anni con Albe, quindi hanno dato continuità, però secondo me per le prestazioni che hanno fatto hanno raccolto molto meno, meritavano molto di più, quindi è sicuramente per noi una partita difficile su un campo dove è difficile giocare, dove magari è un po' più piccolo, dove l'ambiente è sicuramente un ambiente ostico, loro in casa sono una squadra che si fa rispettare, insomma ci sono tutte le caratteristiche affinché questa partita risulti sicuramente molto complicata per noi, soprattutto se non l'affrontiamo con il piglio giusto. Quindi diciamo la Gianna è in questo momento quello che eravamo noi dopo le ripetere partite, cioè risultati inferiori in questa squadra. Esatto, è una squadra che paradossalmente ci somiglia anche tanto, somiglia molto a noi per caratteristiche dei giocatori, per modo di gioco, è una squadra che corre, che è aggressiva, ci somiglia molto e quindi dobbiamo cercare di essere bravi a capire perché loro hanno queste difficoltà e evidenziarle il più possibile e cercare di sfruttare quello che ci viene concesso. Tu hai avuto dei precedenti con la Gianna da giocatore, ma anche da allenatore. D'allenatore con la Gianna Varionati. Come è andata? Abbiamo vinto, no, fatto 2-2 in casa, vincevamo 2-0, mi sembra due minuti dalla fine, abbiamo fatto 2-2 in casa e abbiamo perso, mi sembra 3-2 là, ancora così, città. Grazie.